Grazie a tutti. 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 L'entrata dell'Italia in guerra, l'entrata dell'Italia in guerra, l'entrata dell'Italia O le pagine di un video, non mettendoli in scena, ma in vita Cento voci per Mario Lotto Imparare a parlare! Da dove cominciamo? A tacere, ascoltare, a notare Cominciamo dall'erbe dell'ascolto, che è la più difficile e la più importante di tutti Di questo Mario Lodi è stato maestro Ha ascoltato sempre i bambini e le bambine Un teatro è un luogo comune che diventa in comune, se raccogliamo le voci In un dialogo tra vicinanze e lontananze Tra parole evidenti ed altre nascoste Cento voci per Mario Lodi Nei primi anni per l'impatto ai bambini in barco Il suo luogo lavoro è portato per 150 Sì, sì, dopo averlo postato Un'altra parte Un'altra parte Così, un mattino, dopo tanto lavoro, clic clic, sono riuscita a rompere il guscio e ho visto come a me. Non potete immaginare quanto fosse bella la mia mamma. Mi guardava e diceva come sono felice. Un giorno andai alla curva della ferrovia dove i treni rallentano perché c'è il segnale. Avevo le tasche piene di cianfrosaie e le posai sul binario, un po' lontane una dall'altra. Poi mi nascosi ed aspettai. Quando il treno passò in una nuvola di vapore tutti gli oggetti sparirono. Li ritrovai fra le traversine e in mezzo ai sassi. Ma chi li riconosceva più? Ognuno aveva preso una forma strana. Quello pareva una stella, quell'altro un cuore, il terzo un nodo. E tutti erano piatti e lucidi. E io li ammiravo. E se mettessi questi due insieme pensavo. Provai. Ed ogni volta il treno creava le mie sculture di ferro. Le più belle erano quelle di filo di ferro. C'è più certo che tu da piccolo ne hai combinate di tutti i colori. Però sei sempre stato buono, gentile, generoso, mai superbo. Grazie a te ho imparato a distinguere il vero dal falso. Ho capito che bisogna agire con prudenza, con attenzione. Mi ha fatto capire quanto sia importante aiutare gli altri. Soprattutto mi ha insegnato ad essere coraggioso per difendere la libertà. Grazie GP. Grazie a tutti. Grazie a tutti. uscire da un libro è molto semplice. spingete piano il cancello del codice a barre che si trova sul retro e saltate nella realtà. o più esattamente in un'altra realtà. In mancanza di codice a barre si può anche aprire una O, sollevare la molla di una U o far ruotare su se stesse le antine rotonte di una B, di una C, di una D o di una P. Un libro non è mai una prigione. Bisogna infatti sapere che la realtà comporta gradi differenti, un po' come i piani di un palazzo. nel seminterratio, per esempio, avete le realtà incoscienti, poco illuminate. la lavorano gli psicologi, gli psichiatri e fanno fortuna gli psicanalisti. al pieno terra risiedono le verità stoiche che danno sulla strada e poi dal primo piano in su si succedono le varie verità artistiche, piene di colore e musica, le verità letterarie e cinematografiche, le verità più astratte della danza e della pittura, le verità in technicolor della commedia musicale. Sono piani rumorosi dove si canta, si grida, si piange, cosa che in realtà infastidisce un po' gli inquilini del piano superiore, le saggissime e luminosissime verità scientifiche. Infine, ancor più in alto, così in alto che appena si intravedono, in cima, in cima al grattacielo, vivono le verità filosofiche e religiose. E' il piano dei grandi pensatori, Socrates, Buddha, Leonardo, Michelangelo, Maometti, profeti, saggi e teologi, spesso un po' spersi tra pensieri e nuvole. Ma ancora una volta, per quanto sorprendente questo possa sembrare, Tutte queste verità sono vere. Qualunque cosa possa inventare la poesia, non mente finché resta poesia. I racconti più strampalati sono tanto veri nel loro mondo quanto le tabelline possono esserlo nel loro. Al contrario, se le tabelline volessero essere una favola e Adamo ed Eva affermassero di essere dei personaggi storici, oppure il gatto con gli stivali vi dicesse di avere qualcosa in comune con la zoologia, beh, non credetegli. Ciascuno, per essere vero, deve, per quanto possibile, rispettare il proprio piano. Il guaio è che ovviamente in questo palazzo, come in ciascuno di noi, i piani comunicano con scale d'ascensore e così anche i verità differenti alla fine si frequentano. furniture, come in ciascuno di noi, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scuola deve contribuire in massima parte.